Abbiamo fatto in realtà una giunta che ha parlato di tante cose a partire dal tema del patto per il lavoro, da dover convocare come avevo promesso il tavolo nelle prossime settimane con le parti sociali, gli amministratori e le università. Abbiamo affrontato il tema dell'Expo 2015 venerdì Sarò a Milano con l'assessore Corsini a presentare un progetto specifico che riguarda il tema della promozione o meglio di come l'Emilia-Romagna si presenterà in quella straordinaria occasione che sarà l'Expo per poter proporre i prodotti dell'Emilia-Romagna ma anche un'occasione di formidabile veicolo di promozione turistica per una regione come la nostra da Piacenza a Rimini e da Rimini a Piacenza. Poi abbiamo affrontato altre questioni, alcune relative al terremoto, due questioni in particolare, la prima che ci costituiremo parte civile e proporrò al coordinamento dei sindaci di farlo tutti insieme collettivamente rispetto a quasi ovunque si possa registrare un danno e un dolo per le istituzioni e la regione in particolare. Dall'altra parte abbiamo deciso di mettere 500.000 euro aggiuntivi per fare in modo che entro l'anno davvero quello che l'assessore Costi aveva promesso pochi giorni fa e che manterremo, cioè la chiusura di tutti i MAP perché abbiamo bisogno di cominciare a dare risposte puntuali e precise e questa è una di quelle che avevamo detto anche in campagna elettorale che se avessimo vinto e fossimo andati a governare avremmo voluto mantenere. Quindi sono 500.000 euro aggiuntivi che abbiamo deciso andranno a sostegno di quell'intervento investimento.